Tanta gente, soprattutto tanti alpini, si sono riuniti sull'altopiano di Asiago, sul Monte Ortigara, per la solenne Santa Messa che ha chiuso il tradizionale pellegrinaggio nazionale organizzato dall'ANA. Una a due giorni con lo scopo, nell'anno centenario, di ricordare i caduti dispersi e mutilati della Prima Guerra Mondiale. Solenne e commovente la Santa Messa sul Monte Ortigara. Prima presso la colonna mozza si sono resi gli onori all'Abaro dell'Associazione Nazionale Alpini e poi la celebrazione presieduta dall'alpino veronese Don Rino Massella e dal cappellano militare sloveno padre Milan Prejeli. Un ultimo atto della due giorni, la deposizione delle reliquie del beato Don Carlo Gnocchi nella chiesetta del Monte Lozze. Un segno importante anche per ricordare il progetto benefico 10x10, sostenuto dall'ANA in collaborazione con la Fondazione Don Gnocchi che propone nel corso del 2019 10 eventi in occasione del decennale della beatificazione di Don Carlo e del centenario dell'ANA.